Buonasera e grazie di avermi invitato. La prima guerra mondiale è un argomento che si può prendere da tanti lati. Abbiamo stabilito di esaminare due questioni fondamentali. Una è quella del sentimento della guerra nella letteratura e l'altra è quella della guerra come straordinario volano tecnologico e scientifico. Quindi da una parte diciamo il sentimento e dall'altra parte la ragione. La prima guerra mondiale è stata certamente l'evento che ha avuto un impatto più profondo sulla sensibilità, sulla visione delle cose, perfino sul sentimento delle cose degli europei. Ha rappresentato ovviamente un oiato fortissimo fra la belle époque, cioè fra il mondo che ancora conservava tutta una serie di mitologie di tipo ottocentesco e la modernità. Nella prima guerra mondiale però la tradizione e la modernità si sono mescolate in una maniera quasi inestricabile, perfino dove uno non se lo sarebbe mai immaginato. Perché per esempio partiamo di qui. L'esercito tedesco all'inizio della guerra è certamente l'esercito che ha come dire la base tecnologica più forte. Sta già sperimentando una serie di armi che durante la guerra diventeranno come dire armi fondamentali. Ha sviluppato per primo l'utilizzo dei supercalibri che erano stati sostanzialmente immaginati per distruggere i forti belgi all'inizio del piano Schliffenmolche. Nonostante questo all'inizio della guerra nella cosiddetta battaglia degli elmetti d'argento gli ulani tedeschi caricano con la lancia le mitragliatrici dei belgi e vengono naturalmente esterminati in questa carica. Quindi perfino l'esercito che viene percepito come il più scientifico, il più moderno, il più tecnologico, cioè l'esercito tedesco, incorre in un errore clamoroso come quello di non tenere presente il potere devastante delle nuove armi difensive. Perché questa è la caratteristica militare iniziale della prima guerra mondiale. Una straordinaria preponderanza delle armi difensive sulle armi offensive. E soltanto un poco alla volta, a partire dal 1917, con l'introduzione del carro armato, l'arma offensiva comincerà a avere un significato. Fino a quel momento il problema tattico che devono affrontare gli eserciti è il superamento degli sbarramenti armati con delle armi difensive a tiro automatico, a canna rigata, quindi con una grandissima portata e così via. Tutto il contrario di quello che succedeva nelle guerre napoleoniche, in cui il fucile a canna liscia e ad avancarica aveva una portata utile forse di 100 metri e una precisione assolutamente relativa. Per cui una carica di fanteria aveva un senso. Caricare alla baionetta contro le mitragliatrici naturalmente si è rivelato un suicidio. Quindi la prima guerra mondiale propone un primo problema, una prima riflessione. L'antico e il moderno. Cioè com'è possibile che eserciti, industrie, sistemi scientifici molto elaborati e molto evoluti, che hanno prodotto tutta una serie di armi molto moderne, pensiamo agli aggressivi chimici, all'aeroplano e così via, non abbiano tenuto conto di questa cosa e abbiano mantenuto all'interno della gestione della guerra da parte degli alti comandi, anche una visione, chiamiamola così, napoleonica, contemporaneamente. Ancora al tempo della battaglia di Caporetto gli italiani a Pozzuolo del Friuli fanno una carica di cavalleria. È vero che è una carica di alleggerimento, ma è una carica di cavalleggeri con le lance che vanno a farsi ammazzare contro le mitragliatrici. Quindi, primo dato, la prima guerra mondiale è veramente un corridoio fra la tradizione e la modernità, fra l'Ottocento e il Novecento. Dopo la prima guerra mondiale, alcune delle accelerazioni tecnologiche e scientifiche che sono state raggiunte durante la guerra verranno grandemente sviluppate, al punto che la seconda guerra mondiale sarà di nuovo una guerra di manovra, mentre la prima guerra mondiale è sostanzialmente una guerra di oscillazione. Io non amo la definizione guerra di trincea, una guerra statica, perché in realtà non è una guerra statica. È una guerra in cui i due schieramenti oscillano all'interno di un corridoio di qualche chilometro, avanzando e perdendolo. Pensate a Verdun, quando il paese di Fleury viene preso e perduto 14 volte dai contendenti nel giro di un mese e mezzo. Ecco, però all'interno di questo territorio, che più o meno si identifica con la terra di nessuno, cioè la distanza che poteva arrivare a qualche chilometro fra le due linee contrapposte e le immediate retrovie. Un'avanzata di 20 chilometri nella prima guerra mondiale sul fronte occidentale era considerato un successo straordinario. Quando a Cambrai, il primo utilizzo di massa dei tank da parte degli inglesi, ha permesso un'avanzata di 17 chilometri, e questo è stato visto come uno straordinario esempio di guerra di movimento rispetto alla stasi in cui giaceva l'intero fronte. Prima della prima guerra mondiale la tecnologia si era già appropriata di una serie di concetti che poi nella prima guerra mondiale verranno sviluppati ampiamente, perché ci sono dei conflitti fra l'inizio del 900 e il 1914 che in qualche modo ci danno già un'indicazione su quella che sarà la guerra. Questi conflitti sono la guerra russo-giapponese del 1904-1905, in cui alcune armi, vale a dire le artiglierie navali, alimentate da esplosivi derivanti dalla nitroglicerina, cioè dall'invenzione della dinamite sostanzialmente, la cheddite, le crasite, la balistite, che permettono una maggiore potenza da parte delle bocche da fuoco, i cannoni a canna rigata, la dreadnought, cioè la corazzata con le torri monocalibro, insomma tutte queste innovazioni sono introdotte durante, no veramente la dreadnought è del 1906, ma tutte le altre innovazioni vengono introdotte nella guerra russo-giapponese, in cui la flotta russa del Baltico viene distrutta dalla flotta giapponese proprio per via di questo gap tecnologico, ma anche sulla terraferma, nella battaglia di Mukden, le mitragliatrici, il filo spinato, fanno la loro apparizione in grande stile nel modo di fare la guerra. Ancora di più questo avviene nei conflitti balcanici del 12 e del 13, che sono la vera e propria anticamera della prima guerra mondiale, in cui l'utilizzo massiccio delle batterie per fare un tiro di distruzione prima degli attacchi diventa la norma, la battaglia di Adrianopoli, che è raccontata peraltro da Marinetti in Zangtumtum, è l'esempio più tipico. Tra l'altro le due guerre balcaniche, cioè la prima in cui Serbia e Bulgaria sconfiggono l'impero ottomano e la seconda in cui Serbia e Bulgaria si contendono l'egemonia balcanica, sono due guerre che sono veramente alla base dello scoppio della prima guerra mondiale, perché alla fine della seconda guerra balcanica, dopo la pace di Bucharest, la Serbia si ritrova ad avere un esercito sul piede di guerra ed è l'unico esercito europeo che abbia un'esperienza di guerra moderna. E questo in qualche modo alimenterà anche le ambizioni di Peter Karagiorgevic, che io ritengo essere uno dei principali responsabili della deflagrazione del 1914. Mentre invece per molto tempo è passata la cosiddetta dottrina Fischer, che deriva poi da quello che è successo nella seconda guerra mondiale, con una sorta di effetto aritroso, per cui la colpa è della Germania, del suo imperialismo, della sua aggressività. Io contesto questa lezione e sostengo che invece la Serbia fa un'operazione scientifica di destabilizzazione dell'impero ostrongarico, perché vuole creare quello che poi sarà il regno SHS, che diventerà regno di Jugoslavia, ma attrazione serba, con il Karagiorgevic re, combinandone di tutti i colori. Non ultimo l'attentato di Sarajevo, che certamente viene, se non organizzato, sostenuto dai servizi segreti serbi, in particolar modo dall'anima nera dei servizi segreti serbi, che è Dragutin Dimitrievic, che è quello che organizza l'attentato dando le armi ai congiurati, a Gavilo Principe e agli altri sei congiurati. Quindi una guerra che è preparata in qualche modo, ha degli antefatti facilmente leggibili, ma che all'epoca invece non vengono letti. Perché? Questa è la mia idea. Perché la scienza militare non si muove alla stessa velocità della tecnologia militare, ovvero i vertici militari del 1914 si trovano tra le mani delle armi che non sono in grado di gestire, che non sono capaci di gestire e che utilizzano male sostanzialmente. E' vero che i cannoni, quelli che venivano chiamati Gamma Mercer, i cannoni super pesanti tedeschi distruggono i forti di Liegi, è verissimo, ma poi quando verranno utilizzati in una battaglia campale, vale a dire a Verdun, siamo nel febbraio del 1916, si riveleranno a un certo punto inutili, perché data la loro enormità, il loro peso, la loro difficoltà di spostamento, non potranno seguire l'avanzata delle truppe e quindi lasceranno sostanzialmente i tedeschi, che sono arrivati ormai quasi a Verdun, sono davanti al forte di Suville, come dire, sguarniti da quelle che erano le loro armi migliori, tranne due cannoni navali da 38 cm che sparavano a 40 km di distanza, a parte quelli per il resto. Per cui c'è un gap fra la tecnologia e chi questa tecnologia deve usare. E' come se l'industria militare fosse andata più avanti rispetto alla mentalità dei generali, generali che quasi tutti si dimostrano, come dire, inadeguati da questo punto di vista. Di solito noi abbiamo la peculiare tendenza di parlare male dei nostri, di generali, ma in realtà quasi tutti i generali all'inizio della Prima Guerra Mondiale sono impreparati a questo tipo di guerra. L'esempio, per esempio, francese è quello di Joffre, che alla vigilia della battaglia di Verdun fa togliere dalle costosissime fortezze corazzate che erano state costruite intorno a Verdun, i cannoni, per spostarli in piazzola, cioè facendo esattamente quello che fanno gli italiani sull'altopiano d'Asiago, né più né meno, quindi commettendo lo stesso errore. E il forte di Duomon, che era la punta di diamante della difesa di Verdun, ed era stato descritto pomposamente come il forte più potente del mondo, era un forte modernissimo, viene catturato da un drappello di genieri tedeschi che trovano una porticina aperta, entrano dentro e catturano la guarnigione che da 500 uomini era ridotta a 56 uomini che si erano rintanati nei sotterranei per sfuggire al bombardamento delle artiglierie tedesche. Quindi Duomon cade il 25 febbraio, quindi quattro giorni dopo l'inizio della guerra, l'inizio della battaglia, scusate, cade così, come una pera cotta. Questo a dimostrare che certe scelte, anche economiche, perché queste grandi fortezze costavano molto, sono delle scelte sbagliate, delle scelte inutili. Altra scelta anti-economica, la corsa alle grandi flotte corazzate. A partire proprio dal 1906, cioè da quando gli inglesi mettono in linea la prima dreadnought, cioè la nave da battaglia che segnerà il discrimine fra le vecchie navi da battaglia e le nuove, perché ha un motore a turbina, perché ha le torri monocalibro, non fa fumo nero, per cui non è facile individuarla all'orizzonte e così via, e i tedeschi soprattutto, ma anche gli italiani in un certo senso, si gettano in una campagna di riarmo costruendo questi leviatani giganteschi d'acciaio, cioè le corazzate da più di 20.000 tonnellate, che si riveleranno durante la guerra un'arma a prezzo che è inutile. L'unica battaglia navale di rilievo, lo sapete, è la battaglia dello Jutland, dove per caso la flotta britannica che è uscita a inseguire gli incrociatori di Hipper e la hox flotte tedesca si incrociano, si prendono a cannonate, ma non è una vera battaglia navale e il risultato è che a fronte di poche perdite rispetto al gigantismo delle due flotte i tedeschi non usciranno più dalle loro basi, quindi gli inglesi che le hanno prese nella battaglia dello Jutland otterranno una vittoria strategica perché la flotta tedesca non uscirà più nel mare del nord, rimarrà nelle sue basi. Queste enormi navi costosissime in realtà sono del tutto ininfluenti ai fini della guerra, sono molto più influenti i sommergibili che devono intercettare i flussi di aiuti che arrivano attraverso l'Atlantico verso l'Inghilterra e la Francia, oppure i cacciatorpediniere e le fregate cioè delle navi di intercettazione veloce in grado di silurare a loro volta i piroscofi civili, civili per modo di dire, che trasportano questo genere di cose perché le grandi navi, gli inglesi restano a scapa flow e i tedeschi rimangono a chi è piuttosto che nelle loro basi, quindi un'altra spesa inutile. Viceversa viene enormemente sottovalutato all'inizio della guerra all'impatto dell'arma aerea arma aerea che all'inizio, essendo sostanzialmente dotata di velivoli disarmati, se non la pistola di ordinanza dell'aviatore o un fucile addirittura l'arma aerea viene utilizzata prevalentemente all'inizio come arma di osservazione, soprattutto su dei campi di battaglia dove non ci siano delle alture particolarmente eminenti da cui si possa osservare il movimento avversario. Quindi, per capirci, il basso isonzo, il fronte occidentale, sono ideali per l'utilizzo dell'aereo da un punto di vista dell'osservazione. Naturalmente non esistendo la radio, se non sulle navi da battaglia, perché sono dei sistemi radio enormi, il messaggio veniva affidato di solito a delle bottigliette d'alluminio che con una specie di sciarpa colorata venivano lanciate nell'aereo e davano all'artiglieria le indicazioni per il tiro. Il problema è che gli artiglieri non ci credevano, cioè questi rischiavano grosso perché volavano su dei pollai fondamentalmente, riuscivano a individuare i bersagli, buttavano il messaggio e gli artiglieri dicerano no ma questi qua sono tutti ubriachi, non hanno voglia, e non gli davano retta. Il più delle volte non gli davano retta. Sarà proprio con la battaglia di Verdun, che è un po' un punto di svolta della guerra, che il dominio dell'aria diventerà un elemento essenziale della battaglia. La battaglia forse della prima guerra mondiale in cui questo si manifesta in maniera più palese è la seconda battaglia del Piave, quella che D'Annunzio chiama la battaglia del solstizio, vale a dire il 15 giugno del 1918, in cui il predominio italiano dell'aria è determinante ai fini del successo. Gli aerei italiani mitragliano le colonne austriache che su ponti di bar che stanno attraversando il Piave, li ribombardano e li rimitragliano quando si ritirano e ottengono sostanzialmente un enorme successo tattico da questo punto di vista. Inoltre, proprio in Italia, in quel periodo, un colonnello dell'arma aeronautica, che non si chiama ancora arma aeronautica, è ancora l'arma aerea, non si capisce bene, c'è dentro un po' di tutto, che si chiama Due, per primo postula l'idea che si possa utilizzare l'aviazione come si utilizzano i grossi calibri per il tiro a distanza, solo che la possibilità in raggio d'azione dell'aviazione è enormemente più ampia. Per cui se un cannone a tiro lungo, come i 38 centimetri di verdan che dicevamo, può arrivare a 40 chilometri di distanza, io con i miei aerei posso arrivare a 400 chilometri di distanza e quindi colpire i bersagli strategici, non la stazione ferroviaria dove arrivano le munizioni, ma addirittura il deposito o la fabbrica dove le munizioni vengono fabbricate e che colpita non le potrà fabbricare per un certo periodo di tempo. In più vado a bombardare le piste d'atterraggio degli avversari in modo da impedire che le possano utilizzare e così via. Il bombardamento strategico a livello teorico nasce lì. Vi dirò che molte cose della guerra moderna sono nate in Italia ma non sono state messe in atto. Il primo radar, il gufo italiano e così via. Tutta una serie di trovate che gli italiani avevano ma che poi mancavano di applicazione pratica. Quindi il dato per cui la prima guerra mondiale rappresenta anche un campo di prova, un laboratorio per armi nuove che all'inizio vengono usate in una maniera empirica non efficace e un po' alla volta si impara ad utilizzarle è certamente un dato. Quali sono poi segnatamente queste armi? Ho parlato delle armi a ripetizione, delle armi automatiche, quindi delle armi, il cosiddetto modello Maxime che non utilizza più la forza, la mitragliettrice esisteva già dagli anni 60 dell'Ottocento, la cosiddetta Gatling che era una mitragliettrice a manovella utilizzata già nella guerra civile americana. Bene, il sistema Maxime non utilizza più la forza fisica muscolare dell'uomo, utilizza i gas dell'esplosione dello sparo che possono essere utilizzati in due modi, o con il recupero, vale a dire con una cannula che riporta i gas verso la scatola di scatto, oppure addirittura sulla forza del rinculo che riarma la mitragliettrice espellendo il bossolo esausto. La Maxime naturalmente ha un volume di fuoco molto maggiore rispetto alla Gatling e alle mitragliettrice manuali, alle mitragliere, come si diceva allora, manuali, non soltanto ma, come dire, garantisce un'efficacia, un'efficienza e anche, come dire, una maneggevolezza enormemente superiore. Ha un difetto che viene utilizzata all'inizio come veniva utilizzata la Gatling, vale a dire come un pezzo d'artiglieria, cioè all'inizio la mitragliatrice, che pesa circa 65 kg, una mitragliatrice Maxime completa di tre piedi e pesa circa 65 kg, viene utilizzata come un pezzo d'artiglieria, cioè viene messa in una sua piazzola, ha i suoi tre serventi, vale a dire quello addetto al manicotto del raffreddamento, quello che la rifornisce di proiettili e il mitragliere che spara e questo è. Non viene ancora immaginata come l'arma automatica moderna. Quando verrà prodotta finalmente la mitragliatrice leggera, che la prima è la MG tedesca, che pesa 20 kg, non è che sia proprio leggerissima, questa arma diventerà da arma esclusivamente difensiva, ha anche arma d'attacco. E ne sapranno qualcosa i nostri soldati a caporetto che se ne troveranno davanti. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che un reparto che sta attaccando può godere di un volume di fuoco enormemente superiore rispetto a quello di prima. Cioè la possibilità, la capacità di fuoco di un reparto di fanteria ne risulta enormemente aumentata. Ma anche lì ci vogliono gli anni prima che questo venga capito. E altre armi subiscono lo stesso destino. Il lanciafiamme, per esempio. All'inizio il lanciafiamme viene utilizzato nella trincea. È una lancia in rame, molto lunga, con delle bombole molto grosse e pesanti, con delle rotelle. Viene portata in prima linea e dalla prima linea lancia dove la linea avversaria è sufficientemente vicina a questo oggetto incendiario e ha soprattutto una funzione psicologica. È soprattutto un'arma che serve a spaventare. Poi diventerà un'arma portatile. Le due bombole diventeranno più piccole e nascerà la specialità dei genieri lanciafiamme che vengono in Italia assimilati agli arditi. Qual è il problema? Il problema è che anche i difensori imparano rapidamente e quindi questi portatori del lanciafiamme, che all'inizio sono figure terrificanti, diventano il bersaglio prediletto dei fucilieri che sanno che se colpite le bombole esplodono e quindi assistiamo abbastanza frequentemente ai roghi di questi genieri lanciafiamme. È tutto un aggiustarsi delle cose. Gli aggressivi chimici. Un'altra grande trovata della prima guerra mondiale è l'utilizzo degli aggressivi chimici che non verranno poi più utilizzati, nonostante che quasi tutti i paesi europei ne stocchino grandi quantitativi, nella seconda guerra mondiale non vengono utilizzati. L'ultimo caso in cui vengono utilizzati è la guerra italo-etiopica del 35-36 in cui vengono utilizzati per stanare dalle gallerie in cui si erano nascosti i soldati etiopici da parte dei reparti italiani. Ma questi aggressivi chimici hanno un difetto fondamentale, cioè non sono facilmente gestibili. Soprattutto all'inizio quando si utilizzano i gas di cloro, che sono dei gas asfissianti, questi gas che sono molto volatili, sono soggetti naturalmente ai cambiamenti di vento. E quindi i reparti addetti agli aggressivi chimici hanno sempre una sezione meteorologica che deve prevedere da che parte tirerà il vento. Ma se guardate le previsioni, oggi sembra che da ogni 5 minuti si debba abbassare di 20 gradi la temperatura e debba nevicare in città, come potete vedere ci sono 15 gradi. Ecco, immaginatevelo in guerra, venivano utilizzati questi gas e spesso e volentieri ritornavano su quelli che li avevano lanciati. L'esempio su informante italiano è quello della gasificazione del Monte San Michele, siamo alla fine di giugno e inizio di luglio del 1916, in cui all'inizio questi gas fanno strage fra gli italiani ma poi ritornano indietro e colpiscono anche gli attaccanti. Oltretutto l'utilizzo di aggressivi chimici ha anche una, come dire, una ripercussione psicologica che non era minimamente stata prevista. Cioè i soldati sopravvissuti all'attacco di gas, ritenuto qualche cosa di ignobile, di non cavalleresco, combattono con un vigore straordinario. Cioè è come se dicessero adesso ve la facciamo pagare. Proprio il Monte San Michele è la riprova di questo perché dopo avere praticamente sterminato la brigata regina i soldati austriaci arrivano sulla prima linea di cima 3 e vengono respinti, ma respinti alla grande, dagli italiani inferociti che combattono con un ardore fuori del comune e questo è abbastanza tipico. Di qui la ricerca costante di aggressivi sempre più efficaci. Il Fosgene e poi tutti gli aggressivi in qualche modo venivano identificati per il loro odore caratteristico. Il Fosgene aveva l'odore di fieno bagnato, quindi il fronte era pieno di cartelli in cui si diceva se senti odore di fieno scappa perché arriva il Fosgene. L'iprite aveva un odore molto acre di senape e si chiamava anche per questo gas mostarda. Sono dei gas non asfissianti ma vescicanti, quindi il loro effetto è quello che una volta inalati fanno praticamente a pezzi i polmoni. L'iprite in particolar modo è molto persistente e rimane sul terreno come una sorta di rugiada dopo che è stata lanciata. Anche questi gas però sono soggetti per esempio alla pioggia, cioè se c'è un temporale l'effetto di questi gas è assolutamente diminuito. Inoltre attaccare un terreno che è stato colpito con l'iprite è rischioso anche per chi lo fa. E dall'altra parte c'è la questione delle contromisure contro gli aggressivi chimici e quindi da una parte ci sono laboratori che lavorano sugli aggressivi chimici e dall'altra parte ci sono altri laboratori che lavorano sulle maschere antigas. Maschere antigas che all'inizio sono semplicemente una spezia di mascherina chirurgica con dei filtri al carbone attivo che non salvano. Di solito abbinati a degli occhialini di mica perché i gas soprattutto all'inizio hanno anche un effetto lacrimogeno molto forte. Poi vengono create le vere e proprie maschere antigas di cui la più efficace è l'autorespiratore quindi non una maschera a bombola ma un autorespiratore degli inglesi che è quella che poi nel 1918 verrà data anche agli italiani. Gli italiani hanno all'inizio della guerra una maschera antigas, la cosiddetta muso di cane che è una maschera antigas del tutto inefficace ma anche qui non stiamo sempre a darci la zappa sui piedi. I francesi non avevano neanche quella, avevano la mascherina neanche la mascherina chirurgica, avevano una pezzuola imbevuta in credo qualche disinfettante di un qualche tipo e tenevano quella, cioè il nulla. La guerra fra aggressivi chimici e maschere antigas è un po' come la guerra fra armature e frecce, cioè più la freccia diventava efficace più il soldato corazzato usava delle armature resistenti. L'attacco e la difesa è sempre quella la storia. Fin dalla guerra di Troia quando Achille pieveloce è invulnerabile perché ha delle armi fatate, in realtà questa è una sorta di metafora delle armi di ferro che erano naturalmente invulnerabili alle armi di bronzo. È un po' come se la storia della guerra andasse sempre avanti così. Ci sono poi tutta una serie di dibattiti quasi religiosi all'interno degli eserciti, per esempio uno di quelli è fra gli aeroplani e i più leggeri dell'aria, cioè se usare il dirigibile usare l'aeroplano con i pro e i contro. Quando poi gli aeroplani cominciano ad abbattere i dirigibili uno dopo l'altro ci si rende conto che è l'aeroplano che sarà il futuro, ma fino a un certo momento invece questa cosa rimane in qualche modo sospesa. Contemporaneamente a questo, cioè contemporaneamente al fatto che la guerra rappresenti in qualche modo una novità assoluta da un punto di vista dell'applicazione tecnologica di certi strumenti avviene anche a livello artistico, a livello emotivo, cioè la prima guerra mondiale si lascia dietro uno strascico enorme di, come posso dire, di disavanzi, chiamiamoli così, psicologici, di sofferenze, di cicatrici dell'anima che danno origine a una produzione letteraria straordinaria. Straordinaria soprattutto per numero, perché dopo la prima guerra mondiale moltissimi si dedicano alla scrittura di poesie, di diari, di romanzi in cui compaia la prima guerra mondiale. A vario titolo, da quelli come Junger che fanno della prima guerra mondiale il tema diretto, non so io, di boschetto tal dei tali piuttosto che la guerra, la battaglia come esperienza interiore, a quelli come Carlo Emilio Gadda invece, che utilizzano la prima guerra mondiale per descrivere la propria situazione familiare psicologica come nella cognizione del dolore, in cui naturalmente la prima guerra mondiale non è rappresentata come tale, ma metaforizzata nella guerra fra il Maradagale e il Parapagal. Come percepiscono la guerra questi poeti? Io in un lavoro che avevo fatto sui poeti di guerra avevo fatto, come dire, avevo proprio diviso questa produzione in fasi, esattamente come la guerra è divisa in fasi, all'inizio una fase diciamo di studio, poi la fase del gigantismo in cui si pensa che si possano vincere le battaglie mettendo in campo quante più forze, il material schlag, poi le armi speciali, poi le truppe speciali. Dal punto di vista letterario all'inizio la guerra è soprattutto, tranne forse qualche autore più illuminato degli altri, è soprattutto entusiasmo. E la cosa bizzarra è che è entusiasmo soprattutto in chi la guerra non la fa. Per esempio sui giornali americani, su cui era molto comune il contributo di poeti dilettanti, gli Inklings, che scrivevano delle poesie in una cosa che si chiamava Round Robin, una specie di gara su un argomento, una specie di tenzone, tipo le tenzioni medievali, in cui si parlava di vari argomenti, il tema della guerra, in particolar modo due erano i temi, Davide contro Golia, cioè il Belgio contro la Germania e quindi tutti a menarla su Davide contro Golia e l'altro Giovanna d'Arco, la Francia, insomma era chiaro che gli intellettuali americani, Edgar Limaster per dirne uno, si schieravano decisamente dalla parte della Francia e dell'intesa, anche perché la bilancia dei pagamenti americana era fortissimamente orientata in quel senso, tant'è che il neutralismo assoluto che era stato proclamato all'inizio della guerra da Wilson poi si trasforma nell'intervento con tutte quelle scuse abbastanza ridicole che ricordano molto da vicino la pistola fumante in Iraq, cioè l'affondamento dell'usitania, peraltro un'area inglese non americana e soprattutto il telegramma tedesco al governo messicano per un attacco all'America dal Messico, già questo fa ridere i polli, vabbè comunque dicevo all'inizio sono toni molto baldanzosi. La nazione che esprime il maggior numero di poeti di guerra è l'Inghilterra, perché l'Inghilterra ha tutta una generazione, quella che viene chiamata la generazione predestinata dagli inglesi, the doomed generation, in cui da Oxford, da Cambridge, dalle grandi università arrivano volontari in guerra, questi ufficiali, ufficiali di complemento, tutti pieni di riferimenti classici, di un'idea bellissima della natura, arrivano in guerra e lì trasportano questo loro mondo e cominciano a scrivere delle poesie sulla guerra che all'inizio hanno dei toni, se non bellicistici, quantomeno patriottici, cioè questo sarà per sempre un pezzo d'Inghilterra, il mio amico combatte insieme a me, quando vengono creati i cosiddetti pale battalion, cioè dei battaglioni di volontari che vengono reclutati nello stesso quartiere o nello stesso paese, questo diventa una cosa molto forte. La morte di Kirchner, per esempio, che muore nell'affondamento dell'incrociatore che lo sta trasportando in Russia per un colloquio militare, diventa un argomento molto forte. Tutto questo all'inizio, ripeto, ha dei toni piuttosto baldanzosi, piuttosto patriotici, ma un po' alla volta questa poesia tende a cambiare, cioè tende a concentrarsi non più sul valore patriottico del combattimento, ma sugli aspetti reali, diventa più realistico e un po' alla volta si eclissa da questa poesia la visione religiosa, la visione di Dio, è come se Dio scomparisse dai campi di battaglia e rimanesse alla fine soltanto l'idea quasi fatalistica di una guerra infinita, cioè la prima guerra mondiale a un certo punto quando le grandi battaglie, Verdun, La Somme, Ypres, non portano a nulla, quasi forma nei combattenti l'idea che questa guerra possa andare avanti all'infinito. Addirittura c'è chi postula che da questo momento in poi la guerra sarà la condizione normale e la pace la condizione di straordinarietà e da questo poi deriveranno tutta una serie di romanzi, Huxley per esempio, di fanta politica, di fanta società che derivano proprio da questo sentimento. La poesia diventa sempre più dolorosamente disperata e per reazione diventa sempre meno una poesia pubblica, una poesia civile e sempre più una poesia, una lirica di tipo privato, cioè la guerra diventa ciò che la guerra fa a me, che fa alla mia anima. Sul versante italiano vediamo il nascere di quello che poi sarà l'ermetismo, ma anche la poesia di Clemente Rebora per esempio che descrive crudamente certi episodi di orrore a cui assiste durante la guerra. Credo che fra questi meriti un cenno particolare Ungaretti, non tanto perché Ungaretti sia un poeta straordinario, io credo che sia stato molto sopravvalutato come poeta Ungaretti, ma perché Ungaretti è quello che per primo assume una dimensione della scrittura per cui non c'è tempo per dilettare di retorica, cioè io sono, vi ricordo che Ungaretti è un soldato semplice e volontario in una brigata di fanteria di prima linea, è sul San Michele a combattere, quindi lui si trova in trincea, scrive con la matita copiativa su dei foglietti, su un taccuino e da un momento all'altro può morire, quindi non ha il tempo di star lì a fare della letteratura e scrive solo i concetti essenziali, è così che nasce il porto sepolto che è del 16 e questa è la base poi della poesia pura dell'ermetismo, dell'eliminazione diciamo del connettivo grasso della letteratura nell'ermetismo, nasce da un'esigenza pratica e lo stesso Erebola che su linee completamente diverse cerca di dare alla parola, alla singola parola una pregnanza particolare, tutto questo dall'altra parte, cioè nel fronte occidentale viene incarnato da quello che probabilmente è il più grande poeta della prima guerra mondiale, cioè Wilfred Owen Wilfred Owen che è un medico militare, si fa tutta la guerra dal 15 al 18 e muore una settimana prima della fine della guerra, leggenda vuole che quando suonano le campane per l'armistizio di Compiegne arrivi a casa sua il telegramma del ministero della guerra in cui si dice che è caduto, che è morto, Wilfred Owen è quello che inaugura un nuovo tipo di poesia di guerra, la poesia di guerra pacifista, ma non pacifista pacifondaia, pacifista di uno che la guerra la sta combattendo e che dice oh guardate che la guerra è una cosa spaventosa e la descrive nei suoi aspetti più terribili, fino ad arrivare a dire in quella che forse è la sua poesia più celebre che è dulce et decorum che riprende il verso oraziano in cui dice caro giovane a casa ti ripeteranno la solita triste bugia, la definisce bugia, dulce et decorum est pro patria mori, non è né dolce né bello, è terribile, è terribile, quindi sbagliano entrambi, sbagliano quelli che all'inizio non vedono l'orrore della guerra, vedono soltanto l'elemento patriottico ma sbaglia probabilmente anche Owen che è talmente esausto di guerra che l'elemento patriottico non lo vede più, che la guerra gli sembra solo un insensato ammazzarsi a vicenda e poi insomma gli inglesi producono un numero enorme di poesie di guerra che vanno dalle poesie della Brittany che poveretta era la donna più sfortunata del mondo perché gli ammazzano il fratello, le ammazzano il fidanzato in guerra e lei fa la crocerossina e scrive dalle poesie insomma piuttosto esacerbate, ah non so io, per esempio Singer che è uno dei più grandi poeti ebrei del novecento che descrive i suoi, il suo randevuco alla morte e queste cose qui, ma credo che la poesia di guerra che ha lasciato una traccia nell'immaginario collettivo più di ogni altra sia in Flanders Fields che è di McCree che è un capitano canadese, in Flanders Fields è quella poesia in cui dice fioriscono i papaveri fila dopo fila sui campi di Fiandra e le file dei morti aumentano fila dopo fila e ha lasciato un come dire un feedback talmente forte che è quella che ha ispirato ad andare la guerra di Piero, dormi sepolto in un campo di grano, non la rosa non è il tulipano. Questa cosa dei papaveri rossi è stata talmente introiettata, è diventata talmente un simbolo di quel campo di battaglia in cui le due cose che ai combattenti ricordavano la natura in questa sterminata distesa lunare che era diventata la terra di nessuno sono i papaveri che continuavano a fiorire nonostante tutto e le allodole, le allodole che Wilfred Owen dice coraggiosamente cantano nel mattino, altri uccelli non ne sentono, altre piante non ne vedono, quello è il simbolo tant'è che quando c'è stato nel 2014 il centenario dello scoppio della prima guerra mondiale in Inghilterra intorno alla torre di Londra sono stati piantati 840.000 papaveri a ricordare appunto lo scoppio della guerra e la spilletta del centenario ufficiale era un papavero di legno, un piccolo papavero di legno. La prima guerra mondiale è stato un, come tutte le guerre importanti della storia, è stato un formidabile serbatoio mitopoietico. La maggior parte dei nostri miti virili ed eroici derivano da guerra, a partire dall'Iliade che è in qualche modo la Bibbia della mitologia militare. La prima guerra mondiale ha rappresentato anche da questo punto di vista lo scontro di due mentalità. Da una parte in alcuni settori, in alcuni campi, in alcuni reparti, in alcune armi sopravvive uno spirito cavalleresco fortissimo. Penso agli aviatori che si sentono dei veri cavalieri dell'aria e che così si comportano. Come dire, c'è un grande rispetto, quando viene abbattuto un asso avversario si vola sul campo d'atterraggio di quell'avversario e si getta una corona di fiori. Insomma, ci sono degli aspetti fortemente cavallereschi. Dall'altra parte c'è quello che dicevamo, il material schlacht. Cioè il dire, questa è la trincea nemica, io la schiaccio come un rullo compressore. Credo che la battaglia di Messin sia il simbolo, come dire, più evidente di questa assenza di cavalleria. Vengono scavati dei cunicoli di mina sotto le linee tedesche, né in queste colline di gesso, vengono fatte brillare tutte insieme e fanno circa 15.000 morti in un colpo. 15.000 in un colpo. È una bella cifra. Così, schiacciati come la mela di leopardi nella ginestra. Quindi anche in questo mi verrebbe da dire che la prima guerra mondiale è un fenomeno bifronte, è un fenomeno borderline in qualche misura da questo punto di vista, dove noi troviamo dei rigurgiti del passato, lo spirito cavalleresco come la carica alla lancia, come il Pickelhaube degli elmetti prussiani all'inizio della guerra. E poi, un po' alla volta, accanto a questo, si sviluppa un'altra idea più moderna, più assettica, anche più cinica, anche meno romantica di guerra. Ed ecco che il Pickelhaube lascia spazio allo Stalhelm, all'elmo d'acciaio al magnesio, che sarà meno poetico, ricorderà meno la grande tradizione prussiana, ma salva il 25% dei morti che nel 2014 morivano per ferite alla testa, che non erano inflitte da proiettili, da colpi diretti di proiettile, perché un colpo diretto di proiettile avrebbe forato anche lo Stalhelm. Fora anche il Kerlar oggi, per cui insomma. Ma da sassi, schegge, shrapnel, che sono dei pallettoni di piombo tenero sparati da dei proiettili che esplodono in aria, ma il piombo tenero non è una pallottola, per cui, e cambia tutto da quel punto di vista. Qui noi siamo arrivati buoni ultimi, noi non avevamo, no, gli austrieci per la verità arrivano buoni ultimi, noi fino al 1916 combattevamo con un berretto di panno, un po' alla volta viene sostituito da un elmo che dovevamo comprare dai francesi, perché non ce l'avevamo, l'elmo adrian, che era un elmo di lamierino, non era un elmo d'acciaio massiccio come quello inglese o come quello tedesco. Anche in questo vediamo che nella guerra il passato e il presente si mescolano, cioè il passato paradossalmente è il cappello di feltro che sembrava il futuro rispetto agli elmi medievali, ma invece l'elmo d'acciaio è il futuro rispetto al cappello di feltro, al cappello di panno. E la stessa guerra, lo stesso andamento della guerra ci propone questa questione passato presente, perché soprattutto sul fronte occidentale, dove è impossibile vivere all'aperto, i soldati fanno una vita da trogloditi, ritornano a vivere come gli uomini delle caverne, vivono all'interno di questi enormi stollen, di queste grotte scavate decine di metri sotto terra per resistere al tiro dei maggiori calibri e stanno lì dentro, escono fuori solo la notte. Quindi anche in questo la prima guerra mondiale rimanda a un passato remoto, ma in qualche modo impone anche ai soldati uno stile di vita, un modo di vivere che non è normale, che ribalta in qualche modo il ciclo, hai voglia prendere melatonina poi per eliminare il jet lag, insomma, vivevano proprio alla rovescia. E, vediamo un po', sì, la cosa più paradossale è, di quel tipo di guerra, è il concetto di vicino lontano. Cioè quando tu sei in prima linea sulla Somme, sei in una landa lunare, in una bolla, isolato da tutto. Cioè ci sei tu, c'è un cordone ombelicale che è il camminamento che ti collega alle retrovie da cui arrivano i medicinali, le munizioni, i rinforzi, i cambi, il cibo, eccetera, eccetera. E poi c'è il nemico, il nemico che non vedi, che nella migliore delle ipotesi è un profilo all'orizzonte di una collinona, si tratta poi quasi sempre di colline bassissime, con muri interi di filo spinato, decine di metri di matasse, di filo spinato e di cavallo e di frisia, e tu non sai cosa c'è al di là. Al di là c'è una specie di mondo misterioso. E quello è lì, il tuo universo è quello lì. Ma contemporaneamente, il giorno del tuo compleanno, da Piccadilly Circus, in 24 ore arriva in prima linea il tuo dolce, il tuo plan cake, con gli auguri della famiglia. Quindi vicino e lontano, insieme, contemporaneamente. Tu vai in licenza, esci da quella fascia di 20 chilometri che è la zona di guerra e poi improvvisamente scopri che c'è un mondo che vive la sua vita normale. E questa è un'altra cosa paradossale di quella guerra. Perché le guerre più antiche, più antiche fino alle guerre napoleoniche, erano guerre in cui gli eserciti vivevano consumando il territorio su cui si muovevano. Cioè vivevano di razzie fondamentalmente. E la guerra avveniva nella bella stagione, era una campagna, una battaglia e poi si andava a fare la pace. Di solito, fino alla guerra civile americana, le guerre erano queste. Adesso i soldati non fanno nessuna razzia, non hanno nessun rapporto con il mondo, chiamiamolo, borghese. Quando escono dalla zona di guerra, si accorgono che la vita è andata avanti normale, uguale. E arrivano a casa e sentono la gente che dice, ah ma voi non sapete i sacrifici che facciamo. E intanto la cameriera gli sta versando la panna nel tè. E questo dice, panna nel tè. E questo crea anche un meccanismo, come dire, di rancore nei confronti di quello che la maggior parte dei soldati percepiva come il vero nemico, cioè l'imboscato. quello che avrebbe potuto andare a combattere non c'è andato. E questo sentimento spiega poi molti mal di pancia del primo dopoguerra e anche fenomeni politici di più vasto respiro. Io faccio sempre l'esempio del battaglione in cui ho fatto il militare io, cioè il battaglione edolo del quinto reggimento alpino. Il battaglione edolo era schierato nel settore ad amello. In particolar modo, dopo essere stato nel 1915 sul cosiddetto tonale occidentale, viene spostato in conca presena. Vale a dire, presidia una serie di cime, Castellaccio, Lago Oscuro, Payer, che sono tutte intorno ai 3.200 metri, 3.300 metri e che cadono a picco sulla valle formata dal fiume Olio che si chiama Val Sozzine. E sotto si vede Ponte di Legno e più lontano Temù. Questi soldati distano dalla vita civile 3 chilometri, solo che sono 3 chilometri verticali, non 3 chilometri orizzontali. Per cui per scendere a valle, a parte che non lo possono fare perché sono lì a presidiare, ma per scendere a valle devono mettersi su una teleferica, vi dico l'esperienza, e da lì scendere alla ridotta Garibaldina e poi tornare a Milano, a Bergamo, a Brescia, in Val Camonica, dove erano loro ricambi. Pensate alla dimensione vicino o lontano di quei soldati, che la notte vedono le luci delle case, magari delle loro case, perché tanti di questi provengono dalla Val Camonica, vedono le luci delle case che sono vicinissime, ti sembra di poterle toccare, e al tempo stesso sono lontanissime. Lontanissime anche dalla loro realtà, che è quella di temperature polari, del non potersi affacciare perché sennò ti arriva una palla in testa, del combattere in condizioni veramente critiche, a 3 chilometri di distanza, c'è la gente che beve il caffè latte con dentro il pane. Ecco questo qui. anche questa è una dimensione che le guerre precedenti non avevano e che la prima guerra mondiale pone lì. Qual è il risultato complessivo se dobbiamo fare una specie di bilancio? Abbiamo detto la novità delle armi, la paura anche dei soldati che si trovano ad affrontare delle armi inaspettate, gli aggressivi, i lanciafiamme, i grossi calibri e così via. Tenete conto che nella battaglia di Verdun, centinaia di migliaia di soldati non sono militi ignoti, sono militi spariti, cioè sono stati polverizzati durante la battaglia, non si sa che fine hanno fatto, sono stati impastati col terreno. Questo tipo di guerra in cui l'uomo si sente una formica schiacciata da una zampa di elefante è una caratteristica. Armi superiori all'immaginazione, situazione vicino lontano, situazione di una guerra che sembra non finire mai, il dover convivere con il cadavere del tuo migliore amico magari che è stato fatto a pezzi a due metri di distanza. Nel libro Trincee di Carlo Salsa, grande scrittore milanese del primo dopo guerra, Fante, che combatte infanteria, c'è la descrizione di una posizione sulla lunetta del Mersli, che era una posizione sopra Caporetto particolarmente esposta, in cui lui e i suoi amici, ufficiali di complemento milanesi, amici e così, si trovavano a bere il caffè a quello che loro chiamavano il caffè del Genoic. E si chiamava così questo caffè del Genoic perché dalla parete di fango della trincea usciva un ginocchio mummificato di un soldato austriaco morto l'anno prima su cui loro appoggiavano la caffettiera. Ora io non credo che una persona come Carlo Salsa fosse insensibile, ma in quel momento erano talmente, erano dei ragazzi di vent'anni e dovevano talmente esorcizzare tutta quella morte, tutto quell'orrore che avevano intorno, che scherzavano sul ginocchio di un nemico caduto. Io sono sicuro che dieci anni dopo, andando in visita ai campi di battaglia, Carlo Salsa si sarebbe inginocchiato davanti a una cosa del genere, ma in quel momento ci metteva sopra la moca per farsi il caffè. E così tanti altri episodi di, come dire, di esorcizzare la morte e l'orrore tramite la goliardia, tramite lo scherzo. Ecco questo è un altro elemento. La superstizione è un altro elemento. La religione nella prima guerra mondiale è messa in un angolo, non è particolarmente sentita, ma la superstizione è sentita tantissimo. Tutti i soldati con le fasce di forzamento dei proiettili fanno croci, medagliette, hanno i santini nella divisa, convinti che questo possa deviare i proiettili nemici. È un'enorme miniera di superstizione. Non a caso in latino la superstizione si chiama religio. Ecco. Proprio perché fa emergere in un certo senso degli elementi primordiali, degli elementi proprio esorcistici, apotropaici nei confronti della morte, ma più che della morte il soldato ha paura della mutilazione. La cosa che fa più paura ai soldati è l'idea di perdere una gamba, perdere un braccio, che era cosa abbastanza comune perché quando uno veniva ferito, per evitare l'embolia gassosa, si tagliava. Quindi un numero poi di mutilati gigantesco, da cui anche qui una ricaduta perché l'onnipotente associazione mutilati di guerra di Del Croix, che nel primo dopoguerra diventa un'istituzione enorme, accanto al tribunale di Milano c'è un edificio bellissimo che è stata sede dei mutilati di guerra e in tutte le città ce n'è uno. Per cui anche lì la paura della mutilazione è la scienza che comincia a inventare le protesi estetiche. Cioè comincia ad inventare delle protesi, generalmente di gomma, che aiutano a rendere più guardabile il viso dei grand blessé che sono stati colpiti per esempio al viso. Era abbastanza frequente, dato l'uso di pallottole esplosive, la perdita della mandibola, degli sfregi in viso terrificanti, che erano non più temuti ma vissuti peggio nella convalescenza rispetto alla mutilazione di un arto. E allora ecco che nasce questa, chiamiamola, non so, scienza biomedica, che ne so, questa fabbrica di arti, di protesi, di facce, di gomma, che cercano di supplire questa cosa. Oh ma provate a immaginarvi, centinaia di migliaia di giovani che tornano a casa e che dicono, e io come faccio a trovarmi un'amorosa, come faccio a sposarmi conciato in questa maniera qui. Ed ecco dunque, insomma, l'Europa che esce dalla prima guerra mondiale è un'Europa diversa, completamente diversa. È un'Europa che non si trastulla più con certe estenuanti svenevolezze decadentiste in cui uno, perfino uno come d'annunzio, è passato dalla pioggia nel pineto al notturno. Ha fatto, certo, d'annunzio poi rimane d'annunzio, scrive sempre alla sua maniera, ma ben altro è l'argomento del suo narrare. E così una intera generazione ne esce indurita, in qualche modo dimagrita, in qualche modo disposta a rinunciare al superfluo. E al tempo stesso passa, e questo forse è l'effetto psicologico più importante storicamente, passa l'idea che la violenza possa essere uno strumento politico, cioè che si possano vincere le battaglie politiche riempiendo di botte l'avversario. E non a caso tutte le piazze europee dopo la prima guerra mondiale vengono divise fra noi avevamo le camicie nere e i socialisti, ma vengono divise, chiamiamoli fra destra e sinistra, militaristi e pacifisti, quello che volete voi, che se le suonano di santa ragione e qualche volta cercano anche di fare delle rivoluzioni. Perché la guerra è anche una formidabile elevatrice della rivoluzione. mette le armi nelle mani dei contadini, nelle mani degli operai e debitamente organizzata questa cosa dà origine a dei bei disastrini, uno fra tutti la rivoluzione bolscevica del novembre del 17. Quindi mi verrebbe da dire che quella guerra è stata in qualche modo la levatrice, la vera levatrice del novecento. Concludo dicendo che tra le altre cose non sono per nulla d'accordo col mio buonanima illustre collega Hobsbawm che parlava di secolo breve, che diceva che il novecento è praticamente un secolo compresso fra il 1917 e la fine della seconda guerra mondiale. Per me il novecento è un secolo lunghissimo che inizia addirittura col positivismo, col darwinismo, con la fiducia cieca nella scienza, a cui dà una pappina formidabile della prima guerra mondiale che dice no guardate la scienza buona, brava e bella ma poi gli uomini alla fine sei quello della pietra e della fionda. E arriva fino ai giorni nostri ed ultra, tanto è vero che mi pare due giorni fa la neo eletta presidentessa del partito democratico la prima cosa che ha fatto ha detto vado a Firenze a fare una marcia antifascista, cioè vado a Firenze a fare una marcia contro una cosa che è morta 80 anni fa. Quindi io ho l'impressione che invece questo secolo breve sia un secolo lunghissimo e che per noi i giochi siano fatti. Io fortunatamente vedo nei miei ragazzi che hanno 20 anni un sentimento nuovo, che è prima di tutto un sentimento di noia nei confronti di questo passato che non vuole passare, di queste guerre che non vogliono finire. La prima guerra mondiale credo sia la madre di tutto questo, anche se forse una madre inconsapevole. Vi ringrazio. La situazione che adesso c'è in quella specie di saliente dove la guerra sta infuriando di più è una situazione molto simile a Verdun, solo che mentre a Verdun von Falkenheim voleva fare una guerra d'attrito, cioè voleva costringere i francesi a consumare le loro energie, mantenendo invece le sue fresche, basandosi sulla propria superiorità numerica e poi in realtà ci viene tirato dentro anche lui e diventa una guerra d'attrito da entrambe le parti, qui tutti e due sono convinti di fare una guerra d'attrito. Gli ucraini dicono noi siamo di meno ma abbiamo delle posizioni favorevoli, quindi li consumiamo. I russi dicono noi siamo di più, quindi la dottrina già da Klausewitz rimonta della guerra d'attrito è dalla nostra parte e lì si consumano a vicenda, con delle perdite che l'Occidente sta sottovalutando drammaticamente. Cioè noi stiamo facendo finta che in Ucraina si combatta la guerra del Golfo, dove peraltro ci sono state tantissime perdite ma solo da una parte, cioè dall'altra non dalla nostra, quindi a noi chi se ne frega. Lì ci sono centinaia di migliaia di morti, ci sono delle perdite da prima guerra mondiale e noi stiamo facendo finta di nulla, questo è veramente drammatico e questo dipende non tanto dal cinismo di chi vende le armi agli uni e agli altri, quanto da un'opinione pubblica che è stata narcotizzata dall'idea delle bombe intelligenti, della guerra che non fa i morti, di una guerra che sembra un videogioco. Cioè, scusate, a partire dal bombardamento di Belgrado, in cui si vedevano saltare in aria i grattacieli, uno diceva che bello, sembra proprio, non so io, un videogioco di guerra. Ecco, che l'opinione pubblica non si alzi in piedi, non dica basta, non costringa i politici a atteggiamenti, non mi frega niente di Ucraina e Russia, atteggiamenti più determinati nell'interdire la guerra, e scusate, il grande assente è l'ONU. Chi dovrebbe mettersi in mezzo e dire, oh basta, è l'ONU, che non esiste più. L'ONU non c'è più, non esiste. Ed è paralizzata dal fatto che il Consiglio di Sicurezza è stato pensato come uno strumento dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale con il diritto di veto in cui noi non possiamo entrare perché noi la Seconda Guerra Mondiale l'abbiamo persa, ma il Giappone non ci può entrare, la Germania non ci può entrare, ma vi sembra normale. Ecco, quest'ONU ha dimostrato nelle guerre della ex Jugoslavia di essere impotente, con 5400 risoluzioni inutili. Nella guerra del Golfo non ha messo becco e qua meno ancora. E allora a questo punto chi è al mondo in grado di interporsi? Se ci si mette la Nato è un attacco, perché la Nato non è terza, è parte in causa. Certamente ci sono gli stessi elementi di quella guerra d'attrito, con la pretesa da parte dei combattenti di sapere che c'è stato quell'errore e dire no ma noi stiamo facendo una cosa diversa, mentre in realtà stiamo facendo esattamente la stessa cosa.